Buonasera Rosario Crocetta, presidente uscente della regione Sicilia. No? Da lunedì possiamo definire... No, niente formalità. In che senso? Mi chiami pure semplicemente Rosario. Ah, va bene. Io amo la semplicità. Sì. Niente dottore, professore, coso... No, no, ma io sono... Mi chiami Saro. Saro? Rosa. Rosa, come vuole. Vabbè, vabbè. Senta, comunque grazie intanto per averci concesso questa intervista in casa sua, che insomma... Ma cosa vuole chiamarla casa? Beh, insomma... 60 metri quadrati. Vabbè, ma noi... Perché quando uno va a casa di un presidente della regione, ci aspetta di trovare una villa sforzosa, un ciartino lussorecciante, una piscina olympionica. Ma io no, per esempio. Magari delle carrozze trainate da puro sangue alsaziani. Ma no, adesso non ci si aspetta questo. E forse ci aspettava che io la ricevessi con un vestito di broccato in una sala affrescata. No. Magari durante un ballo di corte, mentre lanciavo delle cosce di faraona ai giullari. Ma no, questo non... Invece niente di tutto questo. E meno male. Io sono una persona semplice. Perfetto. Che ama carezzare il fenicottero. Perfetto. Va bene, però non parliamo di bello. Fenicottero lasciavano stare. Se ci abito qua... Sì. ...in queste ristrettezze... Vabbè, ma guardi... Ecco, magari solo qualche piccolo monile prezioso. Sì, qualche... Qualcoggetto d'arte. Vabbè, bene, bene. Perché a me piace la bellezza. Perfetto. Io amo il bello. Bene, ma non ci interessa tanto. Mi piace tanto il bello. Sì. Per esempio, questo è un carretto siciliano. Sì. In Ginebro. In Ginebello, bellissimo. Questo è un braccialetto... Sì, ma non ci faccia vedere. ...verbero. Sì, bello. Perché io so parlare l'arabo. Sì. Lo sapeva? Sì, sì, ho letto che sapevo. L'arabo è il bello. Sì, l'arabo è il bello, sì. Io amo il bello. Ah, ma il bello, perfetto, abbiamo capito. Vuole che continui l'intervista in arabo? No, no, no. A Kamalak, te sono da Karabello. Cosa? Cosa ha detto? Immagino che... No, va bene. Senta. Significa io amo il bello. Sì, ma l'avevamo intuito. Però possiamo parlare della regione Sicilia adesso, perché... La regione Sicilia l'ho trovata distrutta, da quelli che lavorano governata prima. Sì. E io l'ho risanata. Ho fatto ripartire l'economia, ho risolto il problema della disoccupazione. E adesso indietro non si torna più. No, va bene. E io lo voglio dire a testa alta. Grazie a Rosario Crocetta, alle conti della Sicilia sono tutti in ordine. Sì, però ecco, non risulta. Secondo la Corte dei Conti, con lei il debito pubblico in Sicilia ha aumentato... Ma questo perché abbiamo fatto investimento portante per la regione Sicilia? Sia calma, va bene. Autostrade, industria, quei dotti, ferrovie, metropolitane e funivie. Ma quali funivie? No, invece vi siete rovinati perché avete troppo personale. Solo in Sicilia spendete un terzo di quello che si spende in tutta Italia. In regione avete cinque volte i dipendenti della Lombardia. Voi avete un modo di ragionare del Nord. Ma non è un modo di ragionare. Voi ragionate in un modo sbagliato. In che senso? Perché non vi piace il bello. Ma guarda che piace anche qui. Se Lombardia assumono un medico in un ospedale l'eccellenza della bella amministrazione del Nord, se invece in Sicilia assumiamo 24.000 forestali per tagliare una siepe, allora lo scandalo della solita Sicilia sprecola. Ma scusi, 24.000 forestali sono un'esagerazione, no? Ma in Sicilia la siepe cresce molto più in fretta del Nord. Ma non giustifica 24.000 forestali. Abbiamo questo sole meraviglioso. Sì, sì. Questo mare. Ma bene, ma adesso non... Io ci vado spesso. Ma guardi, non ci interessa. Anche oggi. Ma è andato oggi. Mi piace il bello. Le piace? L'abbiamo capito. Vuole vedere una foto di me al mare? Ma no, no, guardi. Mi piace il bello. Ma lasci stare, non ci interessa la foto, guardi. Vabbè, guardi, visto che insisti. Eh, vabbè, vediamola. Bella. Qui il bello, ci sono gli scogli, crocetta, le scarpe di crocetta, lo zaino di crocetta. Tutto di crocetta, sì. Perché io non vado sulle barche costosse. Bene, benissimo, ma non ci interessa. Non frequento i risori di lusso. Ma nessuno gliela chiede. Io mi butto sulla spiaggia semplicemente. Eh, lo vediamo, sì. Nella mia languida nudità. Bene, ma guardi, non entriamo nei dettagli. Mi lascio travolgere dalla brezza leggera. Va bene. Del mare che mi sciviora le membra rilasciate. Ma guardi, Presidente, va bene. L'immagine è bellissima che mi metto ancora i fremiti. Sarà, comunque, almeno si sceglie spiagge poco affollate, almeno questo... Nella foto ci sono solo io. Infatti, si vede, sì. Sai chi me l'ha fatta la foto? No, chi gliela fa? 12.000 forestali che non sapevano che minchia fare quel giorno. Scusi, eh. No, no, va bene, ma... Non erano... Non erano 24.000? Sì, certo! Eh, stia calmo, stia calmo! Secondo lei la siepe si taglia da sola! Non lo so, stia calmo, stia calmo. Senta, invece, Crocetta, domenica si vota per il nuovo presidente. Lei ha scambiato la sua candidatura in Sicilia con un seggio in Parlamento alle prossime elezioni. Insomma, lei ha ricattato Renzi. Io non capisco il vostro modo di ragionare che ci avete al nord, è strano. Ma cosa c'entra? Se a Milano uno trova il lavoro perché è bravo, ha studiato bene, allora per voi è merito. Eh, certo. Se in Sicilia io dico a Renzo, mi fai entrare la camera, ti manda schifio le elezioni regionali, allora ricatto. Eh, beh, certo! Ma come ragionate male voi al nord? No, ma scusi, ma come ragiona lei che chiede... Io ragiono così... Sì? ...perché a me piace il bello. Basta, abbia capito che le piace il bello. Guardi questo oggettino come bello. Ma non ci interessa! Chi se ne frega? Questo è un bellissimo cestino di frutta di marzapane e di ceramica. Beh, è di ceramica o di marzapane? Sembra ceramica? Ah. Ah, non mi piace ceramica. Non lo mangerei quindi, forse lei. Mi sembravano che i dolcetti li faccio io. Sì, bene, vai bene. Io so cucinare, eh? Sì, non ci interessa, però vogliamo parlare della Sicilia. Cucino bene, eh? Sì, bene. Questa è per la mia specialità? No, non ci interessa, non... La pasta alla gatanese. E allora sentiamola. Prendo l'asciuga. Sì. Le daglio fine fine? Sì. Poi ci butto il pan grattato. Sì. Sulle pennette. Ecco, ecco, a proposito di penne... Me, ancora c'è domande sulle penne! Eh, ma devo farglielo, scusi, l'anno scorso la legione Sicilia ha speso quasi due milioni di euro per comprare penne e matite, venti volte più della Lombardia. Ancora con questi paragoni in confronto con noi non si può fare. Ma come non si può fare? Noi siamo qui terra di Quassimodo, di Ciascia, di Verga, di Vittorini, di Pirandello, tutti scrittori, voi non volete vedere le penne? Ma non è che questo... Guttusso con Cossi e Nera, ma con la minchia! Allora, senta, stia calmo, perché non giustifica quella spesa, eh! È un ragionamento... Non giustifica la spesa. Comunque, lei da lunedì lascerà la regione, no? Ecco, che bilancio fa di questi cinque anni? Un bilancio bello. Bello, certo. Se pensa che in vent'anni sono l'unico presidente della Sicilia che non è stato arrestato. Questo è vero, questo è vero, però non può essere solo questo, no? E di Cossi devo essere contento, che il lavoro non c'è, che non ci sono ferrovie, che reggiano in Sicilia, rischia il fallimento. Eh sì, perché questi sono i problemi della Sicilia, no? No, questo è quello che vedete voi al nord, voi guardate, sono il bicchiere mezzo vuoto. Ma come no? Noi vediamo il bello. Va bene, abbiamo capito. E il bello è che non mi hanno arrestato. Va bene, però, perfetto. Senta, però, per l'addio di lunedì ha pensato a un discorso ricommiato? No, abbiamo le cose semplici, i pochi fronzoli. Sì, va bene. Ho pensato a un saluto sobrio, umile, misurato, come sono sempre stato io. Bene, bene. Perché sono le crocette in fondo, è un uomo spartano. È un uomo spartano. Scusi, ma chi sono loro? Cos'è? Ora le vede così, ma hanno un contratto regolare da forestali. Ma no! Addio Sicilia, ti lascio al cuore, in cambio voglio per me. Un sencio in Parlamento, con il PD, sembra un ricatto certo, ed è così. Mi piace il bello, e il bello è che c'è un posto in vista per me. Dattemi sta poltrona, lo dico in umiettà, Adio Sicilia, Roma arrivo, e vi porto il bello, vi porto il bello. Grazie a Marta Nannini, Paola Biraghi, Crizia Picci, Sara Semeraro, Francesca Paolino e Valentina Ferreri. Grazie.